Giornata di sabato invernale sull'Italia, complice un nucleo di aria gelida in quota che dalla Scandinavia si tufferà sul Mediterraneo e darà vita a una zona di bassa pressione con piogge e rovesci sparsi. Le nevicate sulle Alpi a quote basse, quote collinari anche sul Piemonte, sulla Liguria e poi osservate lungo l'Appennino centro-settentrionale, anche qui neve attorno ai 300-600 metri di quota. Parliamo dell'Appennino tosco-emiliano, poi anche di quello umbro-marchigiano, abruzzese e laziale. Per quanto riguarda la Sardegna neve sulle aree interne anche qui a quote di bassa montagna, per quanto riguarda invece l'Appennino meridionale siamo attorno ai 500-1300 metri di quota. Tutti i dettagli però li trovate scaricando l'app gratuita i Trevi Meteo, visitate gli articoli sul nostro sito web.